Siamo oggi a Catania per la seconda edizione degli Stati Generali del Turismo. Come sempre Fratelli d'Italia ha le sue proposte per migliorare un comparto che deve essere assolutamente volano per l'economia italiana. Subito un Ministero per il Turismo, la destagionalizzazione e il riconoscimento di tutte le nuove professioni che riguardano questo grande e fantastico ambito per l'Italia.